Parte il primo ottobre un'iniziativa che si chiama Abruzzo on Action, un'iniziativa formativa rivolta ai giovani abruzzesi, un'iniziativa della Perigeolus. Nasce qui in Abruzzo, questo Abruzzo on Action è rivolto, come diceva lei, ai giovani per far conoscere ai giovani il loro territorio, partendo dall'esplorazione alla cultura e all'ambiente dove loro vivono. Con questo progetto la Perigeo vuole trasmettere ai giovani il gusto per l'avventura, far riscoprire l'amore per la propria terra. Le radici profonde non gelano perché attraverso le tradizioni bisogna guardare verso il futuro e quindi i giovani che, proiettati verso il futuro, devono per forza guardare verso il passato. L'esplorazione vuole questo, ha bisogno di conoscenza per addentrarsi nei luoghi meravigliosi del nostro territorio. C'è bisogno di conoscenza dei luoghi e della natura stessa. E questo è uno degli aspetti fondamentali dei nostri stage del corso. Il progetto è finanziato dalla Direzione Politiche Attive del Lavoro Formazione Politica e Sociale della Regione Abruzzo, ma vede la collaborazione del Comune di Montore Alvomano. È un progetto che si svolgerà sul nostro territorio comunale e che vedrà una sorta di mix tra teoria e pratica. Infatti ci saranno delle lezioni che si terranno presso la nostra sala civica, unite a delle esperienze pratiche nel nostro sito di importanza comunitaria, il SIC di Capo Parata, che è un posto davvero esclusivo dove i giovani si andranno a cimentare. Da ultimo voglio anche ricordare che proprio in questo periodo stiamo collaborando con questa associazione anche per riqualificare l'area del lungo fiume.